E come ogni sconfitta, brucia, però speravamo che saremmo andati a affrontare la nostra squadra a Giorgita, ma sono tutte le squadre che ci affrontano. E' anche vero che sbagliando si impara. Noi siamo qua, dobbiamo guardarci noi, già sabato sera andiamo a affrontare il Club Italia che la squadra gioca molto bene e niente, ci dobbiamo guardare noi, se noi giochiamo una cosa che sappiamo fare, potrà essere sicuramente più facile. Assolutamente no, noi sappiamo che se prendiamo alto il nostro ritmo di gioco, siamo una squadra che può lottare con tutte, non abbiamo niente da perdere. E' ovvio che se affrontiamo le partite, magari con un po' meno di concentrazione, e così sono tutte pronte a farti lo scambio. Club Italia è una squadra che gioca molto bene, sta facendo ottimi risultati. Noi sicuramente dal nostro canto dobbiamo fare la nostra partita, tenere alta la concentrazione e puntare a fare la nostra migliore prestazione. Dopo il risultato dipenderà tutto da lì. Ma su quello che abbiamo sempre fatto, è vero, la forza del nostro gruppo che alla fine tutte le buone prestazioni che abbiamo fatto finora è di peso da quello. Siamo un gran gruppo e adesso ci abbiamo una settimana, poco meno di una settimana per preparare questa partita. E niente, andiamo avanti così e speriamo arrivi un buon risultato.